a breve? Sì, qualcuno ha anche detto, intanto buongiorno a tutti, qualcuno ha detto che io vado in pensione bypassando la legge Fornero, non è così, io vado in pensione al di là dei limiti che sono stabiliti in generale per tutti i cittadini. Ci vuol dire quanti anni ha anche se alle signore non si chiede mai? Sì, in università si va in pensione a 70 anni e quindi questa è la mia età. E sono felice di averla e sono felice di essere rimasta fino a ora in università perché devo dire che lavorare con i giovani è una grande soddisfazione. Professoressa, cosa farà da pensionata? Molte cose, intanto continuerò spero a studiare e a fare ricerca perché guardi oggi si parla molto di apprendimento lungo tutta la vita ma è una cosa che noi prendiamo troppo poco sul serio. In realtà è vero che si può apprendere a tutte le età ma è anche vero che magari diciamo tenendo in considerazione la mia lunga esperienza anche di docente io potrò magari anche dedicarmi a qualche attività di formazione. in particolare io do molta importanza a un tema che oggi è considerato estremamente importante a livello internazionale che è quello della educazione finanziaria di base. Vuol dire che oggi per essere cittadini, cittadini consapevoli, cittadini responsabili bisogna conoscere i fondamenti dell'economia e della finanza. Esattamente come lei su questo tema, sono molti anni che la penso così le chiedo due cose al volo però c'è un signore che della legge Fornero si fa veramente un baffo in pensione non ci pensa, non va da andarci ed è Silvio Berlusconi ha detto ieri che lui sarà ancora in campo per le europee fa bene secondo lei? Beh, tutti quelli che hanno energia, possibilità di lavorare e poi il suo, qualcuno direbbe che è un lavoro un po' sui generis quello della politica in ogni caso quello che è importante se si ha la salute è continuare a impegnarsi quindi sotto questo profilo è tanto di cappello. Ok, allora una benedizione della Fornero per Berlusconi mi dica un'altra cosa ha visto cosa ha detto Casalino in questo messaggio vocale mandato a un giornalista se dovesse venire fuori che i soldi non li hanno trovati nel 2019 e l'ha detto